python in excel come fare ad ottenerlo come fare ad utilizzarlo e che cosa significa è il primo passo verso la morte delle nostre macro vba ben trovato su excel ha sempre ragione io sono marco in arte macro braglia e se non mi conosci sono un esperto di excel e di automazione con le macro prima di cominciare con questo video tutorial ti voglio ricordare di iscriverti al gruppo facebook excel ha sempre ragione per partecipare alla community dare ricevere supporto attivo partecipare ai sondaggi oppure vedere addirittura una tua richiesta trasformata in un video tutorial iscriviti anche al canale telegram se sei allergico a facebook e vuoi solo ricevere una notifica ogni volta che un nuovo contenuto viene pubblicato vai sul blog excel ha sempre ragione punto it slash blog dove i migliori contenuti video verranno trasformati in contenuti testuali e o viceversa e dove potrai anche scaricare le risorse gratuite come i file che utilizzo nei miei video tutorial per ultimo ma non per ultimo ti ricordo di iscriverti a questo canale youtube dove stai guardando questo video per farmi sapere che ti piace quello che faccio ora il mamma microsoft a fine agosto 2023 ha annunciato di aver rilasciato l'integrazione di python con in excel andiamo a vedere ho preparato un paio di link un paio di link degli annunci e dei primi contenuti che sono stati rilasciati da microsoft li trovi nella descrizione di questo video il primo è l'annuncio del rilascio datato 22 agosto 2023 dove viene appunto annunciato il rilascio della funzionalità python integrata in excel solo per gli iscritti al programma insider 365 canale beta e tra pochissimo vedremo che cosa significa e come fare se non ce l'hai in questi documenti c'è l'introduzione un po alla funzionalità di python in excel ci sono alcune cose che ti voglio evidenziare la prima è che da settembre questo è un aggiornamento di settembre python in excel adesso è disponibile a chiunque sia iscritto al canale beta di microsoft 365 e abbia una licenza personal family education o business o enterprise di office 365 di microsoft 365 questo perché su windows su piattaforma windows molto importante questo perché nelle settimane antecedenti era stato rilasciato pian piano quindi non tutti anche se erano iscritti al canale beta non la vedevano ancora adesso è a tutti e solo su piattaforma windows quindi non è su mac non è su android non è su web eccetera eccetera pian piano verrà rilasciata alle altre sulle altre piattaforme questa è la prima informazione che ci portiamo casa la seconda informazione che ci portiamo a casa è che è qua che microsoft ha stretto una partnership con anaconda un repository di librerie python utilizzato da decine di milioni di utenti che lavorano con i dati e altra cosa molto 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 l'ho già detto molto 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 importante è che python in excel utilizza una distribuzione di anago di anaconda che gira su azure il cloud di microsoft cosa significa significa uno grosso vantaggio che non devo installare python sul mio pc per poterlo utilizzare ma l'altra faccia della medaglia è che i miei dati insieme al codice che scrivo python vengono inviati al cloud azure di microsoft dove avviene l'elaborazione e mi vengono restituiti i risultati quindi l'uno era il vantaggio che non devo avere python installato sul mio pc due svantaggio devo essere connesso a internet per poterlo utilizzare tre svantaggio privacy perché i miei dati vengono inviati sul cloud seppure con tutte le postille sulla sicurezza dei dati che ci dice anche microsoft in questi articoli ci sono poi altri due documenti trovi sempre link in descrizione uno è il blog di microsoft 365 insider dove ci sono più o meno le stesse informazioni qualcosa in più qualcosa in meno e il terzo invece è quello del support.microsoft.com dove ci fanno vedere come muovere i primi passi con il python che è quello che andremo a vedere anche in questo video tutorial ora torniamo tolgo lo zoom e andiamo a prendere un file excel di esempio che ho preparato per questo video andiamo a fare zoom perché adesso andiamo a vedere come iscriversi al canale beta di microsoft insider 365 se non sei già iscritto come fai a capire se sei correttamente iscritto beh perché vedi questo modulo qui nel menu formule di excel quindi nel menu formule di excel c'è la sezione python anteprima con questo bel logo del linguaggio di programmazione python blu azzurro e qualche comando se non lo vedi è perché non sei correttamente iscritto al canale beta di insider 365 perché come abbiamo letto prima ora la funzionalità è stata rilasciata a tutti tutti quelli che ne hanno diritto ovviamente quindi andiamo a vedere come fare andiamo nel menu file giù in basso a sinistra andiamo a cliccare su account e qui al centro c'è proprio la sezione microsoft 365 insider dove vediamo che io ho fatto effettua ho fatto correttamente l'iscrizione al canale beta se qui non vediamo questa cosa qua veniamo al canale normale andiamo a cliccare il pulsantone fortissimo mi raccomando andiamo a cliccare cambia canale e andiamo a scegliere il canale beta da questo menu a tendina e andando a dare ok in fondo in fondo a destra del pop up in questo modo microsoft 365 si auto aggiornerà e al termine di questo aggiornamento dovete assolutamente vedere la sezione python anteprima nel menu formule di excel altrimenti significa che ancora non è stato completato l'aggiornamento oppure non ne avete diritto perché non avete una delle licenze 365 menzionate nell'annuncio di mamma microsoft andiamo avanti e andiamo a vedere quali sono le librerie python che sono incluse in questa integrazione abbiamo detto che non è installato sul nostro pc è installato sul cloud di azure e usa la distribuzione il reposito di anaconda possiamo vedere quali sono le librerie automaticamente importate automaticamente a disposizione per i nostri comandi andando a cliccare sempre qui nella nella sezione python anteprima il comando inizializzazione si aprirà una colonna qua a destra dove siamo soliti vedere le query le tabelle pivot eccetera eccetera dove andiamo a leggere le librerie python che vengono automaticamente importate precaricate preloaded dal dal nostro microsoft excel vengono importate numpy pandas matplotlib statsmod un sacco di librerie se conosci già il python e lo utilizzavi per analisi di dati analisi statistiche analisi numeriche rappresentazioni grafiche probabilmente questi nomi ti saranno familiari se non conosci il python e lo vuoi studiare ti diventeranno familiari ma sappi che queste sono le librerie che hai già a disposizione da poter usare nei comandi python che inserirai in excel che inseriremo insieme tra poco ovviamente è possibile utilizzarne anche delle altre ma non è l'oggetto di questo video tutorial quindi queste sono le librerie automaticamente incluse ora ce n'è una in particolare che è pandas che voglio un attimo approfondire perché sull'oggetto pandas data frame si basa completamente l'integrazione di python in excel andiamo a fare un esempio andando a prendere appunto una richiesta che è stata fatta sul gruppo facebook di un utente che per un qualche motivo suo arrivava con questo intervallo di dati che è una matrice espansa di excel 365 si vede dai bordini che vengono fuori intorno all'intervallo dati dove aveva questi nomi di fogli table 1 table 1305 1306 1306 e voleva eliminare i duplicati mantenendo gli altri nelle stesse posizioni quindi nelle stesse posizioni ma solo la prima occorrenza di 1 306 doveva essere mantenuta e l'altra eliminata quindi il risultato che volevo ottenere era questo ovviamente non c'è bisogno di scomodare il python per fare questa cosa qui lo sto prendendo come esempio per far vedere come è possibile fare una piccola automazione che altrimenti avremmo fatto quelle macro uba anche con il python in excel ci saranno n mila modi diversi per ottenere lo stesso risultato non focalizziamoci su questo per questo video tutorial però quello che voglio farti vedere come iniziare a utilizzare il python e che cosa significa avere il pandas data frame per utilizzare il python possiamo o andare a cliccare inserisci python o in una qualsiasi delle celle scrivere uguale pi e dare il tab come se stessimo inserendo una una formula normale vediamo che la cella si trasforma e compare questo riquadro con scritto pi a sinistra sia della cella dove sono sia nella barra della formula e qui adesso vuol dire che ok qui dentro andiamo a scrivere del codice python lo possiamo scrivere direttamente qua nella barra della formula la espandiamo e vediamo che innanzitutto il nostro excel ci dice che se facciamo invio qui dentro la barra della formula in realtà andiamo a capo invece per committare il codice python come ci spiega qui dobbiamo fare control invio quindi qui scriviamo con invio andiamo a capo control invio terminiamo la nostra cosa committiamo il codice cosa significa come abbiamo detto prima che lo inviamo al cloud di microsoft insieme ai nostri dati per l'esecuzione ora se io qua dentro vado a cliccare un qualsiasi intervallo di excel ti faccio notare subito anche che qui dentro funzionano i comandi per esempio i riferimenti con il cancelletto quelle per le matrici espanse di excel se io faccio questo do questo comando qua vediamo che il python in excel automaticamente mi utilizza questo comando xl tra parentesi l'intervallo che io sono andato a cliccare che cosa significa andiamo a fare andiamo a creare una variabile che si chiama per esempio table table tabella uguale a questo e se noi diamo control invio vediamo che innanzitutto qua viene fuori un busy mentre lui sta lavorando perché viene fuori un busy perché sta utilizzando la connessione a internet la mia connessione è buona in questo momento a quanto pare probabilmente sia anche un po bloccato il bello della diretta e il bello di un anteprima di una funzionalità in anteprima perché ovviamente avrà ancora qualche bug per quello che l'hanno rilasciato in anteprima per fare le prove e avere i feedback degli utenti e vediamo che ha finito l'elaborazione qua mi restituisce un data frame che cos'è un data frame possiamo utilizzare un piccolo trick andando a stampare nella console del python quindi print noi facciamo print table vediamo il control invio vediamo che qua nella colonna destra è comparso la nostra diagnostica che ci ha stampato in questo momento l'intervallo che noi abbiamo selezionato ma se nel nostro python andiamo a scrivere invece che print table andiamo a scrivere type tra parentesi di nuovo table significa dimmi che tipo di variabile è questa table andiamo a fare di nuovo control invio e andiamo a vedere che il nostro la nostra console ha stampato questo qui è una classe programmazione oggetti una classe di pandas quindi la libreria pandas core punto frame punto data frame quindi l'oggetto xl che è quello che viene utilizzato quando noi clicchiamo in giro nel nostro foglio nei nostri file excel con il python quindi quando andiamo a selezionare l'intervallo di dati su cui dobbiamo fare le nostre analisi automazioni eccetera 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 è un data frame della libreria pandas di nuovo in descrizione al video ti ho messo un link che adesso ti vado anche a far vedere della dei documenti di pandas quindi pandas punto pi data punto org e qui abbiamo possiamo andare a scorrere tutti gli oggetti tutte le classi di questo di questa libreria e c'è la classe data frame dove abbiamo un sacco di attributi di metodi e di possibilità con che possiamo con cui possiamo interagire con questo oggetto ora non è l'obiettivo di questo video andare in profondità su che cos'è la data frame di pandas o su che cosa sono i comandi di python se conosci già python tanto meglio se non lo conosci hai voglia di studiarlo studio ma non è l'obiettivo di questo video ma qua voglio solo dare un'infarinatura quindi non andrò nel dettaglio però ti do il link della documentazione dove puoi andare nel dettaglio se vuoi quindi tornando al nostro file excel noi abbiamo a disposizione e un data frame quando interagiamo con un intervallo dati del nostro file excel andiamo avanti e andiamo a vedere qual è il tipo di output che noi possiamo ottenere da un'interazione con python vediamo qui abbiamo usato il nostro trick per stampare se noi andiamo a scrivere semplicemente table vediamo contro l'invio nella nostra cella abbiamo un oggetto che è molto simile al tipo di dati che possiamo costruire con power query il simbolo è lo stesso e c'è scritto data frame che adesso sappiamo che è il nostro pandas data frame ma se ti evidenzio con il mouse in questa zona qua prima della formula abbiamo un piccolo menu a tendina quando utilizziamo il python che ci fa selezionare il tipo di output che vogliamo ottenere dall'elaborazione python e se clicchiamo ci fa scegliere tra oggetto python oppure valore di excel l'oggetto python è l'oggetto python appunto risultato della nostra interazione perché poi dopo noi potremmo usare in un'altra cella avere di nuovo il codice python che utilizza quello quel risultato intermedio quindi potremmo avere un oggetto python come risultato se invece andiamo a scegliere il valore di excel vediamo come mi trasforma quell'oggetto lì effettivamente in un risultato in un intervallo dati di excel in questo caso non hanno fatto nessuna elaborazione il risultato è tale quale all'input allo stesso identico intervallo però possiamo scegliere tra il tipo di output oggetto python oppure valore di excel per concludere andiamo a vedere un piccolissimo esempio pratico che è quello di cui parlavamo prima quindi cancelliamo nel nostro file questo perché non ci interessa ovviamente di nuovo non voglio in questo video spiegarti dettagliatamente i comandi python che utilizzo ma voglio solo farti vedere come la funzionalità a livello generale funziona e andiamo a prendere quello che ho già scritto magari ti metto nella descrizione di questo video anche questo stesso codice tanto è veramente veramente semplice e qui abbiamo scritto quello che ho scritto prima esattamente table e poi dopo una serie di interazioni come nelle macro vba abbiamo delle definizioni di variabili che si fanno senza la parola dim sopra ma semplicemente dichiarando il nome di variabile e le parentesi quadri in questo caso significa che è un array un'altra variabile new table che è un array a sua volta e qui abbiamo un ciclo for se non sai che cos'è un ciclo for ti metto il link qui sopra di del video tutorial dove spiego come fare un ciclo for con le macro vba il concetto è lo stesso i cicli sono cicli in tutti i linguaggi di programmazione qui possiamo vedere una peculiarità del linguaggio python che è che il linguaggio python non ha delle interruzioni di riga non ha dei punti virgola non ha delle virgole come interruzioni di riga ma lavora con l'indentazione quindi quattro spazi o un colpo di tab che corrisponde a quattro spazi significa che questa riga è figlia lasciami dire di questa come se volessimo mettere delle parentesi questa riga a sua volta è figlia di questa questa riga è figlia di questa questa è allo stesso livello di questa riga ed è figlia di questa qua questo è l'ultimo comando che significa che restituisci mi table va bene allora cosa fa questo codice molto brevemente andiamo ad utilizzare i comandi del pandas data frame dell'oggetto data frame che abbiamo visto prima sui sulla documentazione ufficiale della liberia pandas e fa due cicli innestati quindi scorre le righe e le colonne di questa tabella e se il valore è uguale a zero oppure il valore è già in un array di appoggio ok allora metto il risultato uguale a vuoto se invece il valore è diverso da zero e il valore non è già nell'array di appoggio aggiungo all'array di appoggio il valore in questo modo la seconda volta che incontro lo stesso valore mi trovo in questa condizione perché il valore è già nell'array di appoggio e quindi non vado a non vado a riaggiungerlo e mi mette uno spazio vuoto e infatti tra l'altro new table non l'abbiamo nemmeno utilizzato quindi lo possiamo cancellare diamo invio diamo contro l'invio e vediamo che il nostro python dopo aver fatto la suo scambio di informazioni con il cloud di azure mi restituisce il risultato e la seconda volta che incontra table 1 306 1306 mi restituisce un valore vuoto quindi con questa semplicissima semplicissimissimissima automazione abbiamo visto come utilizzare il python integrato in excel per fare un compito veramente veramente semplice ma come avevamo detto prima non mi interessa il dettaglio del tipo di automazione avremmo potuto farla tranquillamente o con delle formule o con la macro vbi in modo molto semplice ma ho voluto utilizzare questo esempio per spiegarti l'integrazione di python in excel che è una grossa 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 novità delle ultime settimane in casa microsoft per concludere per concludere il python sostituirà le macro vba a breve questo è il mio pensiero personale mia opinione personale assolutamente no ma è nella maniera più totale ovviamente opinione personale di nuovo perché per tutto quello che abbiamo detto prima perché per eseguire il python innanzitutto devi conoscere il python e per eseguire il python devi essere connesso a internet devi inviare i tuoi dati le tue informazioni al cloud di microsoft e poi ci sono una marea di aziende che si appoggiano a excel e alle macro vba quindi prima che tutto questo venga convertito in python passeranno secoli quindi assolutamente no se sei un esperto di macro vba non ti devi preoccupare perché secondo me avrai ancora lunga 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 vita nell'utilizzare le macro per le cose per cui sono sono buone le macro vba quindi le piccole automazioni per risparmiare tempo tutti i giorni non per fare delle cose complicate se sei invece un data scientist uno che è già abituato a lavorare specialmente con il python allora troverai grande giovamento da questa integrazione perché non avrai bisogno di utilizzare librerie esterne che leggono i file excel che scarichi da sistemi eccetera 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 ma è tutto integrato in excel quindi se conosci già il python sei iscritto microsoft insider 365 vuoi utilizzare l'integrazione porta aperta assolutamente vai come un treno non basare però delle attività business critical quindi critiche per il tuo business o la tua attività su python perché è una funzionalità ancora in anteprima può avere dei bug e soprattutto quando finirà l'anteprima avrà una licenza pagamento per essere utilizzata quindi se hai basato tutta la tua attività sull'integrazione python e poi dopo mamma microsoft ti spara un abbonamento mensile da un sacco di euro ti mangerai le mani se invece non conosci il python e lo vuoi imparare questa è un'ottima occasione per fare pratica ma non buttarti a capofitto nel python trascurando le macro per le piccole automazioni di tutti i giorni per questo video abbiamo finito di nuovo ti ricordo di iscriverti al gruppo facebook al canale telegram di andare a leggere il blog ed iscriverti a questo canale youtube fammi sapere importantissimo nei commenti quindi qua sotto questo video quanto ti è piaciuto quanto ti interessa l'argomento se vuoi degli altri tutorial più specifici se vuoi dei tutorial dedicati all'analisi dei dati alla statistica alla grafica che si può fare con python fammelo sapere nei commenti anche oggi excel ha avuto sempre ragione